Buongiorno a tutti, il mio nome è Cristian Ciuffa, il vostro personal coach, trader, investitore privato e analista dei mercati finanziari da oltre dieci anni attraverso lo studio dei volumi, dei cicli e della geometria dei mercati. Ebbene oggi siamo in un giorno particolare perché vediamo un 6 febbraio che effettivamente è un lunedì dopo ciò che è successo scorsa settimana tra appunto i tassi che sono stati comunque annunciati sia per quanto riguarda l'Europa che per quanto riguarda l'America, ci sono stati i non fan però tantissime cose che hanno comunque un valore molto importante. Ma comunque andremo a discuterne proprio oggi, volevo darvi un po' una visione di inizio settimana in modo tale che andiamo poi giorno per giorno a vedere come si evolverà il mercato insieme a voi. Ovviamente voglio augurare a tutti una splendida giornata ovunque vi troviate e andiamo subito a carpire un pochettino dai mercati quello che succede. Voglio fare una piccola, anzi una brevissima, un brevissimo appunto per quanto riguarda appunto il, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda quello che è successo ultimamente con, abbiamo visto i mercati finanziari come sono andati diciamo avanti abbiamo visto una Fed che ha deciso nel nello stesso tempo della della banca canadese ma anche è dello stesso parere anche la comunità europea comunque che è venuto un po' a dire appunto questo cioè il fatto che effettivamente abbiamo uno stop, ci potrebbe essere uno stop dei, del rialzo dei tassi di interesse. Ora il fatto di capire bene cosa intendano dire su questo dopo veramente tantissime tantissima canna al fuoco che si è messa nei giorni proprio subito dopo anche quindi stiamo parlando sabato e domenica dove ci sono stati dopo anche in un fan payroll ci sono state tante cose che si sono dette tra cui i mercati reagiranno bene, i mercati non so se reagiranno bene ma io vi dico solo questo prima di tutto e vi inizio a condividere lo schermo proprio nella nella settimana del ci sono stati appunto dei video che io ho messo all'interno della di chi è abbonato al trading power per esempio ho messo alcuni video abbiamo abbiamo visto in diretta proprio il video sul sui non fan payroll partendo proprio dal dal fatto proprio di andare a capire un po' che cosa è successo nei nei non fan payroll abbiamo visto anche proprio in diretta questa questa cosa anzi l'abbiamo l'abbiamo vista intensamente tutti insieme dopodiché vi dico anche che potete anche andare nel canale quello pubblico basta cliccare il link in descrizione dove c'è anche il canale pubblico telegram potete andare anche sul sul mio sito troverete anche lì anche sul canale pubblico comunque che è aperto a tutti a volte ovviamente vado a immettere alcune cose riguardante appunto i mercati e quello che effettivamente poi potrebbe avvenire nel appunto come news come come anche una sorta di visione che potrebbe che si potrebbe avere proprio dalla macroeconomia o anche delle notizie particolari quindi però ovviamente sul trading power oltre la trading room settimanale abbiamo anche delle notizie che vado a immettere sempre abbiamo vari topic nel nel canale dove puoi andare a a carpire un po tutte le notizie un po tutte le analisi delle idee che io metto eccetera eccetera quindi questo invece lo potete trovare se vi abbonate attraverso il link qui sotto potete trovare il link che vi porta proprio sulla pagina trading power e abbonarvi lì allora quindi questo è sicuramente uno dei tanti vantaggi quindi nel corso del tempo diciamo delle della settimana abbiamo visto tante cose ma quello che voglio portarvi un po a vedere prima di tutto sono i tassi di interesse e anche l'inflation rate cioè il tasso di inflazione che vedete potrebbe io quello che mi aspetto ovviamente su uno stop di tassi ovviamente una una crescita sull'azionario no come si aspettano tutti quanti ma potrebbe anche diciamo tra virgolette anche non avvenire in maniera immediata ma anzi i mercati potrebbero in fin dei conti arrivare a a carpire scusate stavo prendendo la penna elettronica e col fatto appunto della di questa situazione potrebbe anche potrebbero anche avvenire altre altri avvenimenti nel mercato tra cui io stavo immaginando anche un discorso di di una situazione di instabilità che potrebbe portare appunto a una diciamo a una visione di si può dire breve periodo in cui i mercati potrebbero essere un po indecisi fatto sta che partendo da un 6 punti e mezzo potrebbe l'inflazione arrivare anche intorno addirittura sotto il 6 addirittura un 5 la prossima nel prossimo dato no perché comunque abbiamo ancora una situazione che sta andando incontro a una soddisfazione tra virgolette da una parte dei mercati però di certo se andiamo a vedere la disoccupazione andiamo a vedere tutti i dati economici e macroeconomici ovviamente sì siamo ancora in un momento particolarmente difficile però potrebbe potrebbe l'economia diciamo stabilizzarsi e qui ovviamente potremmo avere anche di getto delle situazioni negli altri paesi che potrebbero garantire appunto ai mercati una stabilità questo potrebbe anche arrivare principalmente sui diversi indici per esempio stavo facendo appunto una stavo dicendo a delle persone che mi hanno chiesto proprio questo cioè come vedevo io lo standard pure perché ovvio che andando a vedere una situazione che pesa in maniera contrastante cioè da una parte i mercati potrebbero festeggiare benissimo perché non ci sarebbero altri rialzi no però d'altro canto potrebbe arrivare invece il fatto del di trovarsi in una situazione a cui magari i mercati potrebbero dire va bene ci siamo ci troviamo in un mercato in una situazione di estremo diciamo è interessante per noi perché non si va aumentare i tassi però d'altro canto chi ci dice che magari inverte la tendenza perché magari il prossimo dato sull'inflazione potrebbe essere negativo ok quindi ovviamente ancora abbiamo ancora questo questo tipo di di interrogativo però sotto certi aspetti se noi andiamo a vedere anche l'aspetto quello di di breve periodo e di medio periodo però sul grafico notiamo che lo standard pure come vi ho fatto vedere anche settimana scorsa siamo di fronte a un pattern armonico che sinceramente dal punto di vista geometrico dei pattern armonici abbiamo un discorso di forte tendenza a rialzo perché abbiamo appunto un una visione di come vi ho fatto vedere l'altra volta di un addirittura di un butterfly pattern in cui addirittura potrebbe arrivare il prezzo intorno al 127 quindi vedete come diciamo siamo ancora in un momento importante importante in un momento anche di contrastante cioè il grafico va un po a contrastare quello che effettivamente ci dice il mercato economico quindi diciamo che sotto certi aspetti aspetti prevederei un no un mercato rialzista riguardo lo standard pure come per esempio voglio farvi vedere anche l'indice italiano che è arrivato su un un punto fondamentale che è questa resistenza qui che è molto importante secondo noi 27 152 i mercati sono cresciuti ma guardate qui quindi prima di cantare vittoria guardate come effettivamente questo potrebbe essere un un altro pattern in cui il raggiungimento magari di proprio di un 27 per cento proprio perché mi sembra aspettate un attimo voglio anche una cosa mi sembra di sì esatto potrebbe essere appunto un ABC di pattern in cui il potrebbe essere appunto in questo modo cioè una tendenza rialzista che poi fa diciamo presagire il fatto di andare a trovare un mercato che è esattamente che potrebbe ritracciare attorno ai 27.830 che comunque sia non solo è una resistenza importante siamo di fronte anche a un 168 per cento ovviamente ma abbiamo anche un altro aspetto quello volumetrico perché abbiamo guardate una tendenza di una rottura di un di un nodo importante qui ma se andiamo a vedere anche il breve qui c'è un nodo volumetrico importante che ha già rotto diciamo il mercato quindi troveremo probabilmente un buon un buon punto di resistenza magari qui ok questo è un buon punto di resistenza dove il mercato magari potrebbe poi decelerare ok potrebbe addirittura fare un free waves e quindi addirittura rompere definitivamente i 28.000 cosa che mi pare esagerato in questo momento però non è detto che potrebbe anche accadere una cosa del genere un altro aspetto importante potrebbe venire anche dal dall'indice tedesco che è cresciuto relativamente meno rispetto al all'indice italiano e a quello inglese che ovviamente sta in un momento di massimi importanti di periodo sui 7.900 che comunque tendenzialmente non sono da sottovalutare perché sono dei massimi guardate dei massimi storici che dove il sinceramente l'indice inglese è arrivato proprio in questo in questa candela con questa candela mensile di 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 gennaio il fatto quindi di arrivare arrivare a una tendenza e quello ce lo dice appunto l'indice tedesco a una tendenza importante dove abbiamo raggiunto quest'area di resistenza qui dove io vi ricordate avevo una visione poi di di controtendenza e infatti secondo me potrebbe diciamo qui arrivare in questa zona e stabilizzarsi un pochettino perché stabilizzarsi perché potrebbe l'indice appunto ecco qui tedesco potrebbe anche lateralizzare qui per poi ritornare eventualmente proprio su una zona di supporto dei 14.065 addirittura potrebbe anche ovviamente risentirne i 14.000 diciamo i 15.000 però il fatto che siamo arrivati in un punto importante perché rappresentano dei massimi anche importanti più che altro una zona di resistenza importante mi fanno diciamo capire che questo potrebbe essere un punto di ritracciamento quindi aspettiamoci magari sul medio periodo una lateralizzazione intorno a quale prezzo intorno a questo a questa zona qui ok che è molto importante secondo me ok dopodiché un'altra cosa che volevo dirvi quindi era sui diversi sul diverso comportamento di quello che è successo sullo standard and poor e quello che è successo effettivamente sul Dow Jones perché il Dow Jones guardate ha cominciato già da qualche da qualche tempo a lateralizzare attorno a questo volume qui a questa zona volumetrica dei 33.680 quindi dei diciamo dei 33.700 in cui guardate già da novembre praticamente dove il Nasdaq ha avuto proprio questa curva verso l'alto così come il Nasdaq lo standard and poor scusate è una curva pronunciata verso l'alto abbiamo qui un Dow Jones che invece ha continuato a lateralizzare ha continuato a lateralizzare proprio perché i settori che sono andati meglio nella questo vi porto un po in questa carta geografica dei settori in cui questo qui rappresenta un po lo standard and poor però guardate come e voglio farvi vedere anche il settore ovviamente importante della parte la il settore tecnologico che sta andando molto bene perché e ecco quello che volevo dirvi è che rispetto ai settori quelli diciamo tendenzialmente di quelle aziende che fanno parte del Dow Jones quindi comunque anche dal punto di vista petrolifero dal punto di vista non energetico anche dal punto di vista anche per certi versi manifatturiere eccetera quello che il settore che sta andando molto bene già ve l'avevo detto nei giorni scorsi era il settore tecnologico quello dei il settore della fabbricazione nel settore dei minerali non energetici quindi è sono i settori che hanno spinto maggiormente in questo momento e se infatti andiamo a vedere più che altro vi faccio vedere un attimo i vari settori che che sono che ci sono in questo momento aspettate che voglio farvi vedere proprio questo voglio farvi vedere i propri settori perché è importante andare anche a capire cosa sta succedendo in questo momento più che altro se andiamo a vedere i vari settori degli Stati Uniti andiamo a vedere che quello che ha avuto una performance maggiore sono appunto quelli che vi avevo detto anche perché il settore tecnologico è quello che dopo che di solito spinge un po' il mercato quando si ha un periodo di di forza per esempio nella stafflazione quando c'è stato il periodo in cui siamo usciti da un mercato dove era molto chiusa l'economia hanno spinto comunque moltissimo il mercato tecnologico quello ovviamente non energetico quello della anche del consumer e infatti guarda caso quei prodotti vedete come i da inizio da inizio hanno quei settori come servizi al consumo con la tecnologia appunto il settore tecnologico il settore dei beni durevoli ma anche quello della fabbricazione sono andati hanno performato in in modo molto importante tra cui anche per esempio un su quasi tutti poi voglio far vedere anche l'Italia perché stessa cosa voglio far vedere cosa è andato e guardate come infatti i settori maggiori sono andati appunto su quelli che sono tecnologici minerali energetici eccetera eccetera quindi dei settori che fino adesso sono stati molto importanti per quanto riguarda appunto l'individuazione di sull'azionario di titoli che alla fine hanno dato dei frutti importanti quindi sicuramente quello che un'altra situazione che voglio far vedere è proprio la differenza tra le aziende quelle che hanno uno sviluppo maggiore rispetto a quelle che hanno uno sviluppo minore e infatti guardate come se andiamo sul sul su un etf importante su rassare 2000 guardate come effettivamente le le aziende con la g cioè quelle a forte di forte tendenza quelle che crescono maggiormente sono andate da novembre a essere diciamo a essere sopravvalutate rispetto a quelle con uno sviluppo minore e questo proprio è dal punto di vista che vi sto dicendo è importante perché? perché adesso secondo me andare a a prendere di mira quelle aziende che non hanno diciamo che hanno una forte moderazione rispetto a quelle che hanno una forte crescita quindi ovviamente tendenzialmente più che altro potremmo avere dei disagi perché potremmo andare incontro a una lateralizzazione di queste aziende a una non ha più a una potenza che avevano prima invece andando a prendere dei delle aziende oculatamente importanti come per esempio quelle dello sviluppo e ci sono state persone anche che ho visto anche nei commenti che hanno preso in seria considerazione queste aziende tra cui per esempio un'azienda importante che io avevo già individuato era quella sull'intelligenza artificiale l'azienda si chiama AI che per un certo periodo nell'ultimo periodo ha avuto uno sviluppo che addirittura è andata a prendere guardate eccezionale questa questa tendenza quasi del 100% abbiamo visto che nell'ultimi nell'ultimo video addirittura che avevo fatto sull'intelligenza artificiale dove avevo visto anche dove ho preso in considerazione CRM dove avevo preso in considerazione anche il eccolo qui l'ETF sull'intelligenza artificiale AI quindi Microsoft avevo detto anche per quanto riguarda appunto Microsoft AMD, Silasforce sono delle aziende che sul principalmente sono andate molto bene proprio perché hanno sfruttato un momento importante nella in una visione che è quella di adesso dove i mercati potrebbero sono appunto caotici dove i mercati non sanno dove andare ma se voi andate a prendere quei settori che sono molti importanti tra cui appunto il tecnologico ma addirittura un sottoprodotto che come adesso sta spopolando come l'intelligenza artificiale potrebbe essere molto importante per l'investimento nel medio periodo un'altra cosa quindi voglio ancora continuare a parlarvi di questa situazione sull'azionario perché sono andato anche a individuare un diciamo un altro aspetto importante che è quello relativamente sui tassi di interesse voglio parlarvi un attimo questo sui tassi di interesse perché abbiamo visto quanto appunto i tassi di interesse nel medio periodo potrebbero rimanere stabili cioè significa che potremmo avere appunto una stabilizzazione sul tasso di interesse un po' su tutte le parti quindi questo ho portato l'esempio del tasso di interesse che ultimamente è uscito sulla Fed vi porto anche il vi faccio vedere anche il tasso quindi che siamo arrivati a una visione importante di un 4,75 voglio portarvi anche quello sull'eurozona che abbiamo visto andare a 3 se qualora fosse giunti diciamo a un capolinea di questo genere e questo l'ho visto anche una notizia che è uscita proprio poco tempo fa proprio sul su Bloomberg ho sentito anche vari vari testate giornalistiche che dicevano proprio questo a livello mondiale dicevano appunto che potrebbe appunto cambiare la faccia del mercato che come lo vediamo in questo momento in questa settimana abbiamo poco da vedere a livello di calendario economico perché non abbiamo tantissimo abbiamo comunque la maggior parte della situazione a livello almeno da qui fino a venerdì abbiamo pochissima canna al fuoco tranne però attenzione perché diciamo tranne a quello che andiamo incontro con ancora con la scia dei tassi di interesse e con quello che deciderà anche per esempio l'RBA, quello dell'Australia quindi abbiamo ancora una situazione importante nell'ambito della banca inglese quindi abbiamo ancora delle situazioni che vanno man mano sanandosi ma con una visione di tenersi comunque molto molto calmi sul rialzo dei tassi di interesse quindi questo potrebbe agevolare appunto i settori con maggior sviluppo e uno di queste aziende potrebbe essere TGI perché voglio mettere l'attenzione su Triumph perché è un'azienda che addirittura nell'aeronautica è molto importante per esempio parlando degli Stati Uniti come per esempio altre aziende che potrebbero svilupparsi nell'arco del manifatturiero e nell'e-commerce come per esempio Amazon e come potrebbe essere Walmart quindi attenzione a queste aziende in cui è molto importante una visione di crescita come per esempio potrebbe essere anche Intel e Ders che sono due aziende che vanno di pari passo con una visione appunto di riapertura anche per tante situazioni sia a livello del Covid perché abbiamo per esempio in Cina la scia dell'apertura cinese quindi molte aziende come per esempio Hertz, Intel come per esempio aziende che fabbricano chip potrebbero essere molto agevolati voglio farvi vedere anche un'altra azienda che vi dicevo io che è AMD in cui io mi aspetto ovviamente intorno ai 94 una buona crescita perché appunto AMD è una di quelle aziende che potrebbero dare in questo momento proprio per delle joint venture che sono nate in questo momento potrebbero dare molte soddisfazioni all'investitore quindi vedete e poi questo pattern armonico questo pattern va a coincidere proprio sui 95 per non dire appunto una visione sulla per quanto riguarda una visione geometrica addirittura una stima sul lungo periodo su radice di 3 che poi quello ve lo porterò man mano anche nei diversi video giornalieri bene questo è quello che volevo dirvi principalmente su oggi per quanto riguarda l'azionario importante voglio lasciarvi un attimo anche con una piccola visione che mi chiedete sempre a fine per quanto riguarda anche il dollaro perché questa situazione ha portato ovviamente il dollaro a rivedere una stima rialzista di brevissimo ma che secondo me potrebbe essere un breve periodo con un invece un'azione ribassista che potrebbe esserci nel breve certo è che siamo arrivati dal punto anche perché siamo arrivati dal punto di vista anche sull'euro dollaro di una visione di fine ciclo rialzista più che altro di un ciclo di lungo periodo questo che appunto riguarda il quinquennio e addirittura questo ciclo qui minore che siamo arrivati appunto a una zona importante di breve periodo e quindi questo di fine metà ciclo che comunque va a vedere anche un ciclo terminale dal punto di vista temporale un ciclo terminale che potrebbe appunto portare l'euro dollaro a una visione ancora ribassista dopodiché ovviamente dopo questo ritracciamento sicuramente la visione a rialzo questo piccolo ritracciamento che stiamo vedendo infatti per ora potrebbe portare a una visione rialzista fino agli 1,12 quindi è importante capire questo ritracciamento di fine ciclo che potrebbe far arrivare il prezzo fino a appunto magari 1,12 1,10 1,12 questa zona qui per poi invece ritracciare appunto per una fine ciclicità ritracciare in maniera definitiva almeno fino io me l'aspetto fino al ricadere sulla 200 periodi per poi rafforzarsi nel futuro quindi una inversione di marcia per quanto riguarda l'euro nei confronti del dollaro che potrebbe essere molto importante proprio nella visione quella di una stabilità di rialzo tassi e una visione di crescita dei mercati a livello diciamo generale quindi questo è quello che potrebbe capitare appunto nel breve periodo bene ragazzi con questo è tutto io vi ricordo sempre ovviamente di iscrivervi proprio qui qui sopra eccomi qua sul mio canale iscrizione al canale cliccate anche la campanina così ricevete anche notifiche e rimanete aggiornati quando sono in streaming dal vivo e anche quando carico un nuovo contenuto comunque come questo che avete visto oggi se vi è piaciuto ecco questo video lasciate un like perché è molto importante per carpire appunto una per diciamo raggiungere una comunità più grande e poi darmi la possibilità comunque di far aumentare appunto la nostra community bene io vi ringrazio molto e ci vediamo domani con il prossimo video da Cristian Ciuffa ciao ciao buon trading a tutti